Il tuo partner vuole consumare rapporti sessuali ma tu non ne hai proprie voglia? Vorresti inventare una scusa ma mentire ti crea problemi morali? Vorresti simulare un malessere ma sei una pessima attrice? Nessun problema, adesso c'è la soluzione per te, grazie a mal di testa! Da oggi con una sola pillola di mal di testa potrai procurarti un mal di testa fortissimo e non avrai più bisogno di mentire. Basta menzogne, basta sceneggiate, riporta l'onestà nel tuo rapporto con mal di testa ma sentiamo la viva voce di chi lo ha utilizzato. Litigavo spesso con mio marito, lui è molto focoso e io sempre molto stanco. Ero costretta a mentire e la cosa mi creava disagio, inoltre sono una pessima attrice. Ma con mal di testa ho risolto, niente più bugie e lui mi riempie di attenzioni. Sono molto preoccupato per mia moglie, soffre di mal di testa fortissimi e di sicuro in queste condizioni non le chiederei di fare sesso. Visto? Ascolta chi lo ha provato! Con mal di testa avrai più attenzione e non dovrai più praticare scabrosi rapporti sessuali. E per i casi più insistenti puoi provare mal di testa forte. Approfitta di un ricovero ospedaliero per distrarre il tuo uomo. Mal di testa e mal di testa forte, la tua quotidiana cura del rapporto di coppia. Dal matricomio. Dal matricomio!